Filippo Busin, che cosa non le piace di questa legge di stabilità? Non mi piace che l'obiettivo principale, quello della riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, che dovrebbe lasciare più risorse alle famiglie per spendere e per riavviare l'economia, non sia stato centrato. Alla fine si è tornati all'indicazione iniziale, cioè che questo fondo per la riduzione delle tasse sia destinato prioritariamente a rispetto dei vincoli europei. E' chiaro che questi vincoli europei, così come la situazione, non sono facilmente rispettabili, figuriamoci se avanza qualcosa per ridurre le tasse. Praticamente i nostri lavoratori e le nostre aziende resteranno ancora a mani vuote e sopporteranno ancora la tassazione più alta fra i paesi dell'Ocse. La Lega Nord che cosa aveva chiesto per la riduzione del cuneo fiscale? Aveva chiesto che questo fondo fosse destinato interamente e stabilmente e automaticamente alla riduzione delle tasse. Questo non è avvenuto.